...sistema noi dovremmo fare in modo, visto che siamo la seconda maniereria d'Italia, fare in modo che la nostra città rientri nell'ADSP, cioè nell'autorità di sistema portuale, entro oggi non c'è, e la nostra città diventi definita zona ZES, che è una zona economica speciale proprio delle zone portuali che vengono individuate come zona strategica da parte della Regione. Un appello alla Regione Campania affinché il porto di Torre del Greco venga inserito nell'ADSP, l'autorità del sistema portuale del Martirreno centrale e Torre del Greco riconosciuta come ZES, zona economica speciale. E il senso dell'intervento del deputato del Movimento 5 Stelle Luigi Gallo in occasione della consegna delle borse di studio agli alunni meritevoli dell'Istituto Colombo, evento seguito e raccontato online da TV City. Credo che la Regione, anche stimolata dal Governo, dalla città e dal Parlamento, debba intervenire a dare questo ruolo strategico alla città, che comporta tutta una serie di vantaggi economici di cui la città in questo momento ha bisogno, proprio per far scoppiare il proprio potenziale. Il potenziale lo vediamo nei ragazzi. Pur essendo la seconda marineria italiana evidenziato, non siamo riconosciuti come zona economica speciale, con un ruolo strategico nei trasporti e nella logistica e la possibilità di usufruire di agevolazioni economiche per il tessuto produttivo. Non sono mancati i ringraziamenti del deputato alla dirigente scolastica Lucia Cimmino, con il riconoscimento del ruolo strategico della scuola sul territorio. Ringrazio soprattutto la dirigente Lucia Cimmino che ha avuto il ruolo in questi anni proprio di riuscire a creare questo ecosistema che oggi si esprime qui, anche in questa trasmissione, un ecosistema di vari attori che sono importanti per poter intervenire in una realtà come la nostra, che è un'economia del mare, dove nel mare noi tutti ci riconosciamo, ragazzi che hanno vinto le borse di studio, quindi gli eccellenti, ma anche gli altri che si riconoscono in un percorso che questo istituto sta dando e la città dovrebbe dare nel suo complesso insieme alle istituzioni. Grazie